Musica Se vuoi acquistare FIFA Points a pressi davvero davvero bassi passa da FIFA Points Market, pagina italiana, sicura e rischio ban minimo e utilizzando il codice Lazza avrai 5% di sconto sull'acquisto Link in descrizione Wow ragazzi sono Harry Lazza e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui con il quinto episodio dell'Unlocks The Player Nello scorso episodio ragazzi Aguero mi aveva fatto incazzare in una maniera incredibile in quanto sbagliava gol semplicissimi La prima partita aveva segnato solo un gol e anche nella seconda Solo che nella seconda l'avversario ha quitato quindi abbiamo un bonus e come bonus ho deciso di andare ad aggiungere un assist e andare in quota Così almeno in queste due partite di oggi cercheremo di fare due assist in appunto due partite così da completare diciamo da sbloccare il ruolo Aguero è ancora quota 4 gol su 3 partite Quindi oggi ragazzi cercheremo davvero davvero di farlo segnare Mi sono usato la sua maglietta per almeno portarci fortuna Quindi ragazzi arriviamo per questo episodio a 180 mi piace E nulla andiamo dentro con il match Dunque ragazzi questo è il nostro avversario squadra Che da vista così non sembra forte Ha un difensore bronzo Comunque è una Berkley smischiata non capisco bene All'attualità brasiliana non si capisce bene Vabbè comunque noi ce la facciamo la nostra partita E cerchiamo di far segnare quel cazzo di Aguero Buona marcia al per Aguero Cos'è? No fuori gioco Buona Vai Kun Kun No Guarda che Non cominciare Kun Non cominciare Entriamo in aria Drinkwater Drinkwater segna lui Tutte le volte ho il contrario Segna drinkwater Va bene Non cambia nulla 1-0 e basta Aguero Si cazzo Dai 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 Quinto gol Buona con l'avvento per Aguero Aguero E andiamo raga Andiamo Sesto gol Ne mancano quattro Per sbloccare l'attaccante If Vai Kun Vai dentro Vai dentro Dai 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 Ne sono sette raga Sono sette I gol Ne mancano tre E quittato Ma perché quittate Ma perché Dunque ragazzi Secondo partito di giornata Ok Questa è una squadra un po' più Ragionata Ottima Davvero ottima Ibridata bene Adesso vedrò ragazzi Cosa fare alla fine Perché Non so se giocare un pezzo di partita E magari quittare Andare con Comunque Prendere lo stesso Gli obiettivi Che abbiamo fatto Oppure Mettere un bonus in più Direttamente a drinkwater Vai Kun Kun Art Poi Martial Niente Aguero Lo vi sciolta niente Martial Art Ma vaffanbrocco Vai Kun Kun No 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 Kun E' ottima E' ottima Non sbagliarmela Kun Non sbagliarmela Ma che cazzo è Cioè io Io non ho parole Sui gol che subisco Io non ho parole Sui gol che subisco E' una cosa pazzesca Vincere raga Primo tempo Vincere qua 1-0 per loro Aguero Ma Aguero Ma lo fai Sul serio Goal 2-0 Ecco Mi fa sti gol Oh ma Ma è possibile Che ogni episodio Uguale Mi fa sti gol E non mi segna Quelli davanti alla porta Vai cazzo Aguero Con assist di drink water Cazzo 2 assist di drink water E anche il gol di Aguero Grande Batland Ok ragazzi Tempi supplementari Manca Un solo gol Per Aguero Buona la palla Aguero E anche il lasso Si rincuote Il lasso L'ha fatto lui Quindi ragazzi Sbloccati Centrocampista E attaccante Ali dentro per Maez Maresse 4 No Rigore Te pareva Te pareva Che non posso finire La partita In tranquillità Ne lo paro tanto Se magari No Via Maresse Dentro per il Kun Smalling lo segue Il Kun Il Kun Aguero Infermabile In questo episodio E finisce qua Raga Finisce qua Abbiamo vinto E sbloccato I due Giocatori Che andavamo dietro Da ben Due Episodi Quindi ragazzi Avete visto Gli upgrade Che sono andato a fare Presso Yaya Ture Come Centro Capista Centrale Perché il prossimo Obiettivo Per farlo andare If Praticamente Sarà vincere Più contrasti E chi Non meglio di lui Può eseguire Questo compito Mentre ragazzi Come attaccante Avete visto Non l'ho messo Perché non l'ho messo Ho fatto uno Stroopole Qui sotto In descrizione Avrete link Per andare A votare Quindi ragazzi Votate Votate in tanti Quindi nel prossimo Episodio Scoprirò Chi avrete Votato Quindi ragazzi Questo video Finisce qui Spero vi sia Piaciuto Come lo so Lasciate un bel like Grazie 180 Mi piace Prossimo Episodio Come lo so Ragazzi Facebook Twitter Instagram In descrizione Iscrivete al canale Se non avete ancora fatto Che dire ragazzi Quindi a relazzi Tutto Bella Inoltre ragazzi Se volete acquistare Completini da calcio Passate da Diego Magli Il link in descrizione E con il codice Laza Avrete 5 euro di sconto Su ogni acquisto